La buona tavola si sa unisce e crea la giusta amalgama tra le persone e quindi quale modo migliore per la società APAV Lucrezia Volley per festeggiare la vittoria nel campionato regionale di serie D e il conseguenze ritorno in serie C dopo la retrocessione dello scorso anno. In un noto ristorante della zona tutta la rosa delle campionese era presente assieme allo staff tecnico e al consiglio direttivo della società in tutto una trentina di persone che hanno concluso così in bellezza una stagione impegnativa ma ricca di grandi soddisfazioni. Una società che da sempre si fa portatrice di sani principi di sport e attività agonistica come palestra per la vita sia in campo maschile che in campo femminile. Una stagione per l'APAV straordinaria sotto tutti i punti di vista, una società che conta oggi circa 300 atleti tesserati che in campo femminile ha appunto vinto il campionato di serie D. Abbiamo raggiunto le finali regionali con l'Under 16 e con l'Under 18 e abbiamo avuto la fortuna di avere uno degli allenatori certamente più importanti che probabilmente ci sono in Italia che è Giuseppe Davide Galli e che ha fatto davvero un lavoro eccezionale. E' stata una bella annata, ci siamo divertite, anche la squadra si è amalgamata sin da subito e c'è stata sempre la presenza costante di tutte le atlete in palestra. Abbiamo collaborato sin dall'inizio e tutto questo ci ha portato alla vincita del campionato grazie allo staff tecnico molto preparato e alla forza di volontà di tutti noi. Durante la serata è stato dato l'annuncio che anche nella prossima stagione sarà Coach Galli a guidare la compagine femminile nell'impegnativo campionato di serie C come anche la conferma di Marcello Ippoliti per il settore maschile. In questa occasione stiamo anche programmando quello che è il futuro con questo grande staff che mi ha messo a disposizione l'APA Vlucrezia. La volontà è proprio quella di creare una scuola di pallavolo quindi di interessare tutto il territorio nella speranza di aumentare anche quelle che sono le sinergie, quelle che possono essere le collaborazioni con le altre società del territorio. Con alcuni già siamo avanti con i contatti. Io spero sempre di allargare un pochino il bacino per cercare di essere un pochino anche più competitivi. Anche se, ripeto, la scuola di pallavolo per noi è quella territoriale quindi fare in modo di far crescere tutte le ragazzine del territorio e potergli dare a tutte loro un'opportunità per crescere all'interno del mondo della pallavolo.